Amici di SNAI Tube e di Facebook, buongiorno e bentrovati, sono qui pronta, prontissima e dovete esserlo anche voi per dirvi le ultime news del mondo SNAI, del mondo dei giochi SNAI e allora sono state lanciate 7 nuove slot per voi e di queste 7 nuove slot se dal lunedì prossimo giocherete almeno un giorno della prossima settimana, se giocherete almeno 10 euro anche solo un giorno della prossima settimana pensate un po', avrete ben 15 euro di bonus tutte per voi, le slot sono divertentissime, hanno dei nomi spaziali ed io ve le elenco Capitan Treasure Pro, Geisha Story, Panther Moon, Penguin Vacation, Pharaons Secrets, Rome and Glory ed infine Tay Paradise, Tay Paradise, questi sono i nomi delle nuove slot, vi ricordo dalla prossima settimana chi di voi investirà 10 euro in uno dei giorni, in tutta la settimana insomma vedete voi, riceverà un bel bonus di 15 euro che sono tantissimi soldi, tutto questo è SNAI, tutto questo è l'universo SNAI, me compresa e vedete un po', la prossima volta me lo scrivo qui in fronte, un bel timbrino con scritto SNAI e vediamo cosa succede. Amici io vi aspetto per tutte le news appunto dall'universo SNAI la prossima settimana anche perché chi organizza e chi insomma sceglie le promozioni non ha mai un attimo di riposo ed io sono qua invece per dirvele ogni volta. Amici belli, alla prossima settimana, non mancate!